15 punti, praticamente un punto portato a termine ogni settimana di presidenza fino ad oggi. E questo è il bilancio tracciato da Luciano D'Alfonso che per i primi 100 giorni di presidenza ha voluto tracciare un bilancio completo e dettagliato. Dalle infrastrutture ai trasporti, alla valorizzazione del territorio, alla sanità, al sociale, alla riorganizzazione della macchina amministrativa. Il presidente ha esordito con una battuta sulla sua partecipazione al processo per la discarica di bussi. Non investe di imputato, voi sapete che è una notevole esperienza. Ma poi ha iniziato a snocciolare dati e numeri su tutto quello che è stato fatto. Abbiamo assunto notevoli iniziative, consapevoli che la regione è un ente di programmazione, di normazione e di indirizzo. L'operatività amministrativa riguarda gli enti locali, il sistema associativo delle imprese, il territorio nelle sue diverse forme. Quello che è certo, in questi 100 giorni siamo stati innovatori, esigenti, ambiziosi, avendo in mente precisamente le priorità di questa regione. Primo, la riorganizzazione della macchina, della macchina amministrativa stabilendo chi esattamente deve fare cosa. Siamo passati da 14 direttori regionali a sette capi dipartimento e a un direttore generale sovraordinato che se sotto non accade nulla e si perde tempo, lui avoca a sé e realizza adottando provvedimenti. Nasce la figura del commissario realizzatore. Abbiamo stabilito 171 milioni di euro per i depuratori, perché noi abbiamo i fiumi più sporchi d'Italia che poi hanno reso anche per mesi e mesi non balneabile il nostro mare, che è il parco più grande di cui dispone l'Abruzzo. Ci siamo occupati di finanziare la banda ultralarga. Abbiamo dopo 40 anni determinato la copertura finanziaria e progettuale della Fondo Valle Sangro, che lo ha chiesto anche Marchionne la Fiat. Adesso lanceremo per 5.000 giovani degli Erasmus regionali. Insomma, noi abbiamo in mente di fare in modo che si passi da una regione col punto interrogativo ad una regione funzione, funzione dello sviluppo e della crescita. Ma che tanto ci sia ancora da fare, D'Alfonso ne è consapevole e traccia anche una tabella di marcia. Quello che voglio determinare adesso è un menu per l'attrazione delle imprese, un menu che stabilisca convenienze e facilitazioni puntuali a favore delle imprese che devono investire. Io immaginavo una regione priva di organizzazione, ho trovato una regione senza tradizione organizzativa. Io assicuro agli abruzzesi che questa regione meriterà e riceverà una grande formula organizzativa interna, dove ogni volta non sarà mai più come se fosse la prima volta. La cosa più impopolare che ha fatto? Il rispetto di una norma del 2001 che stabilisce la compartecipazione per le prestazioni riabilitative. Alla fine non è mancata nemmeno una piccola stoccata a chi lo ha preceduto. Chiodi ieri ha detto che questo non è un abruzzo veloce ma è un abruzzo fermo. Lei cosa risponde? Che ho simpatia per Chiodi.